Cisalpina Tours opera dal 1970 a quest'anno il quarantesimo compleanno di una azienda che è nata come una piccola agenzia di viaggi e oggi rappresenta un pezzo importante del primo gruppo italiano di distribuzione di turismo, totale circa un miliardo di euro di giro d'affari, la parte di business travel ne vale un terzo, il resto è vendita di prodotti turistici. Come prodotti Travelport utilizziamo ovviamente Global Access, i prodotti di desktop, le customizzazioni rivestono un ruolo importante in tutti i prodotti che utilizziamo di Travelport. Le caratteristiche principali dei prodotti Travelport sono ovviamente la loro affidabilità che si dà per scontata ma a volte non la è e soprattutto la customizzabilità, questa per noi è assolutamente rilevante, abbiamo clienti di dimensioni varie, da decine di milioni di euro all'anno di transazioni a clienti molto piccoli. Cisalpina è il nostro cliente del 1989, abbiamo sviluppato per Cisalpina una serie di cosiddette customizzazioni di macro, cioè di software specifici che sono essenziali per gestire il flusso operativo dell'agenzia di viaggio, per fare in modo che l'operatività, l'efficienza dei singoli operatori fosse quella ottimale. Le cose molto importanti con un'azienda come Travelport sono due, da un lato che ci garantisca la completezza del prodotto e del servizio per adempiere il nostro dovere nei confronti dei clienti, d'altro canto la flessibilità, la possibilità di customizzare sono elementi fondamentali, quindi un prodotto molto affidabile, molto completo ma anche molto fungibile per le nostre esigenze. I vantaggi che ci offre Travelport si riassumono in una cosa che sembra banale ma non lo è, la possibilità di adempiere sempre bene al nostro dovere, quello che i nostri clienti si aspettano che noi facciamo, quindi Travelport ci aiuta a fare quello, è una cosa di tutti i giorni ma è molto importante che la facciamo tutti i giorni. Una funzionalità utile per gli operatori Cisalpina è l'utilizzo della nostra piattaforma Galileo SSL, desktop SSL, quindi la possibilità di avere una connettività sicura tramite internet, cosa che consente a un'azienda di riconfigurare la propria periferia di operatori in maniera molto rapida. Quello che rende speciale il supporto globale di Travelport e clienti è il fatto che è anche un supporto locale. Si potrebbe erroneamente essere portato a pensare che nel campo del travel e del turismo si parli comunque sempre l'inglese. È vero in parte però è anche vero che un operatore di un agente di viaggio in un paese come l'Italia può avere più immediatezza e facilità nel parlare con un operatore che parli la sua lingua, questo è un valore riconosciuto in maniera assoluta dai nostri clienti. Travelport è certamente un'azienda innovativa e non solo a livello di tecnologia, si può essere e si deve essere innovativi anche a livello di gestione delle relazioni e l'intuizione di creare un Customer Advisory Board è sicuramente un elemento di innovazione. È molto vantaggioso poter condividere con Travelport e con altri operatori del settore le loro opinioni e anche i risultati di studi di ricerche di mercato che sono fatti per lo scopo. Sono molto curioso di capire cosa verrà fuori domani da Focusrite sull'impatto dei social network. La nostra efficienza e la nostra produttività sono migliorate insieme a Travelport. Travelport ci aiuta quotidianamente a migliorare il nostro business mettendoci in condizione di farlo come lo vorremmo fare.